Local Strategy, come non perdersi nel labirinto delle mappe. Un corso che ti spiega tecniche e strategie per sfruttare la ricerca locale e raggiungere gli obiettivi del tuo business. Ciao, sono Luca Bove, ideatore di Local Strategy, un progetto dedicato esclusivamente alla promozione delle attività locali su internet. All'interno del corso Local Strategy troverai ben nove capitoli suddivisi in Algoritmo Ranking Local Classificazione delle schede Fattori per un buon posizionamento locale Problemi comuni e best practices Misurare i risultati Google AdWords e il mondo local GeoSocial Strumenti e tool utili Strumenti di Local Strategy La geolocalizzazione è molto importante in generale e anche su Google. Se si effettua una ricerca ad esempio di un ristorante a Milano si ottengono risultati completamente diversi se la stessa ricerca la si effettua a Firenze. Quindi questo il riuscire ad apparire in maniera adeguata su questo tipo di ricerche di tipo locale è cruciale per poter attirare il maggior numero possibile di clienti verso il proprio sito web e quindi poi verso la propria attività commerciale. Come non perdersi nel labirinto delle mappe Local Strategy è un corso online dove vi sveliamo come funziona l'algoritmo locale di Google, come rivendicare al meglio le proprie schede, quali sono le tattiche migliori per dare visibilità al proprio esercizio commerciale, come si risolvono i problemi comuni e quali sono le forme promozionali per promuoversi con bassi investimenti. Local Strategy, un valido strumento per tutte le aziende con una o più sedi fisiche che vogliono investire direttamente nella promozione locale o nella formazione mirata del personale.